Molti casi di tumore a Taranto e soprattutto la fascia di popolazione che finisce con l'essere sempre più colpita è quella che va dai 40 ai 50 anni. Aspettiamo di conoscere i dati del registro tumori di Taranto nei prossimi mesi per capire se questa percezione, questa sensazione sarà anche suffragata dai dati tecnico-scientifici. Andrebbe però aperta una discussione sui modelli di sviluppo, sui modelli produttivi esistenti in questa città e nella provincia. Non possiamo soltanto limitarci a discorsi di carattere economico quando parliamo di fabbrica, di vendita delle stesse e di possibili nuovi acquirenti. Il tema della salute è un tema importante a queste latitudini per tutta una serie di ragioni e il fatto che ci siano sempre più giovani vittime che appunto perdono la propria vita per malattie così terribili dovrebbe tenere sempre alta quella che è l'asticella di un confronto pubblico, ripetiamo, che su questi temi non può avere delle pause di riflessione.